La Sagra del Grano di Acquarica del Capo arriva alla quinta edizione, un appuntamento che saluta le state del Salento e che come filo conduttore ha l'amore per il grano, fonte di vita. In tutte le sue forme quindi, in una sagra tra le piazze e i vicoli di uno dei borghi più belli del Salento, ma anche spettacoli e musica con artisti come i Sud Sound System, i Mascherimini e tanti altri. Una manifestazione di fondamentale importanza, una manifestazione che è nata così in Acquarica ed è nata tra i cittadini ed è una manifestazione che è cresciuta in tutti questi anni. Ed è una manifestazione che io ci tengo a sottolineare che è di tutti gli acquaricesi e che gli acquaricesi mettono naturalmente a disposizione con il loro contributo, con il loro entusiasmo, con il loro lavoro, con la loro voglia di fare e di essere orgogliosi di essere acquaricesi e portare a conoscenza e portare anche all'esterno qual è la valenza storico, artistico, culturale anche del nostro territorio. Facciamo un percorso veramente molto importante dal punto di vista sia dell'approccio verso la natura, verso i nuovi concetti naturali della coltivazione, il recupero delle sementi antiche, una festa molto aperta al bio, questi aspetti così importanti. La Sagra inizia con uno slogan ben preciso che è il grano è vita, da cui abbiamo preso appunto tutti quanti per creare un percorso culturale ed artistico degno di questa Sagra. Ormai ci siamo veramente impegnati moltissimo e quello che noi vogliamo fare è quello di portare questa Sagra al di là dei confini regionali.